8 settembre 1943. Il mondo, prima da Radio Londra e poi dalla radio italiana, viene a sapere dell'armistizio concluso del governo Badoglio con le forze alleate. A Cremona, già da alcune settimane, circa 600 uomini della Wehrmacht, rafforzati da reparti delle SS, si erano accampati in zona Migliaro. Nella notte tra l'8 e il 9 settembre si impadroniscono della polveriera di Picenengo, impedendo ai militari italiani di rifornirsi. Dalle prime ore della mattinata del 9 settembre, mezzi corazzati tedeschi giungono a Porta Venezia. L'attacco inizia alle ore 6, con nove Panzer arrivati simultaneamente da Via Bissolati, Via Massarotti, Porta Milano e Porta Po, diretti verso il centro della città, per occupare gli edifici pubblici. La prima bomba, sparata in Via Mantova, cade nei pressi della chiesa di Santo Mobono, in un giardino all'angolo tra Via Oscasali e Via Grandi. A difesere l'ingresso della caserma Manfredini in Via Bissolati, viene piazzato un cannone, un altro è stato sistemato all'incrocio con Via Massarotti, puntato verso la sede della gioventù del Vittorio, ovvero ne appostate le forze tedesche. Ma la caserma viene attaccata su due fronti. Si difende con onore, benché, finite le munizioni, venga costretta alla resa dopo aver provocato pesanti perdite tra i nemici. Impari le forze anche in corso Vittorio Emanuele, davanti al palazzo alla Punzone, dove una decina di artiglieri, pur battendosi con coraggio, non basta per opporsi alle SS e agli Alpeniega. Tempeste di fuoco anche contro la caserma a Coldilana, costretta ad arrendersi solo per aver esaurito le munizioni. In successione cadono le caserme di Santa Lucia, Paolini, Sagramoso e San Martino. Alle ore 16 del 9 settembre i combattimenti cessano, inizia la razzia da parte delle truppe tedesche nei pochi negozi rimasti con qualche provvista. Il giornale cremonese Il regime fascista, uno fra i più diffusi nell'Italia del ventennio, non può commentare l'8 settembre 1943, poiché in quel periodo non è in edicola. Ha interrotto le pubblicazioni il 25 luglio di quell'anno per volontario il maresciallo Badoglio. Tra l'8 e il 9 settembre 1943, veri casi di eroismo si contano tra le file italiane, inferiori di numero e operanti in un clima di grande caos e incertezza, generoso il sacrificio di molti. Non bastò sul campo ma dimostrò cosa volesse dire essere davvero soldati italiani, pur in un frangente drammatico della storia patria.